Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura La Cronaca, una rapina la scorsa domenica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. I religiosi sono stati minacciati con un coltello, ce ne parla in questo servizio Chiara Sadotti. Mi ha fatto stare zitto con un coltello, con un cane, un ragazzo con un cane forte, lui mi ha urlato con voce, però lui ha trovato un po' soldi quello che mi ha lasciato mio confratello quel pomeriggio, quindi ho lasciato sulla scrivania, qui con mano presa quella roba uscito dalla stanza. Si è trovato faccia faccia con il ladro all'interno della sua cella, ma nonostante della minaccia ha avuto la forza di gridare e chiedere aiuto ai suoi confratelli. È successo ad Arezzo all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Qui domenica pomeriggio è entrato un malvivente ripreso anche dalle telecamere di video sorveglianza del complesso religioso. Prima assieme al suo cane è entrato nella chiesa portando via le offerte, poi ha sfondato l'accesso che porta al convento, una struttura che ospita in tutto tre frati carmelitani. Lui ha girato dappertutto, dalle stanze, dal nostro dispense, ha aperto tutte le sacche, ha aperto tutte le cassette. Una volta dentro ha preso il denaro contante e trovato circa 450 euro ed altri oggetti. Ha infilato tutto in un sacco e si è diretto verso la cella del padre responsabile, probabilmente pensando fosse vuota, lasciando il cane a guardia dell'ingresso. Dentro però ha trovato il religioso che stava riposando e che ha gridato mettendo in fuga il bandito, scappato con il bottino in spalla. Cosa ha urlato lei? Io ladro, ladro. C'era una signora che stava qui con il cane, lei anche urlava, ho sentito dalla mia stanza. Ha avuto paura? Eh, certo, certo ancora. Però lei è stato molto coraggioso a urlare e a chiedere aiuto. In quel momento ho avuto forza, anche presso quel ventilatore, di combattere. Se sui anni fa io ho anche fatto. I religiosi hanno allertato le forze dell'ordine e sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Ed è finito agli arresti domiciliari un 25enne sorpreso con oltre 100 grammi di hashish nascosti nel frigo. In casa aveva anche armi non regolarmente denunciate. Vediamo. In frigo i poliziotti hanno trovato un panetto di hashish, oltre che un bilancino di precisione materiale per il confezionamento delle dosi. Ma non solo. Sempre in casa aveva anche una collezione di armi non regolarmente denunciate, tra cui una katana giapponese. È così finito agli arresti domiciliari un 25enne accusato di detenzione e a fini di spaccio le sostanze stupefacenti. Si tratta di uno dei risultati dell'operazione ribattezzata alto impatto, una serie di controlli per contrastare e prevenire sul territorio il fenomeno dei reati ai predatori commessi ai danni delle aziende orafe. Controlli che si sono concentrati nelle aree dei distretti orafi, ma anche nelle zone urbane più difficili sul fronte della microcriminalità. A scendere in campo sono stati gli agenti della squadra mobile assieme al dirigente Davide Comito e agli equipaggi del reparto Prevenzione e Crimine della Toscana. Al termine dell'operazione sono stati controllati 75 veicoli, identificate 120 persone ed è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono stati effettuati poi posti di controllo intercettando diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, sono stati svolti accertamenti nei confronti di vari esercizi commerciali e sono state effettuate diverse perquisizioni alla ricerca di armi, esplosivi ed oggetti atti ad offendere. Infine è stato beccato il presunto pusher che all'interno della propria abitazione aveva diverse armi non regolarmente denunciate ma anche 105 grammi di hashish custoditi e 1.050 euro in banconote di piccolo taglio. Due incidenti dolosi nell'arco di 24 ore nel piazzale della Repubblica ad Arezzo davanti alla stazione ferroviaria. Gli episodi si sono verificati nella giornata di lunedì 5 e ieri martedì 6 agosto. Sarebbe stata la stessa persona, un uomo senza fissa dimora che aveva scelto nei mesi passati di accamparsi con una tenda proprio dietro alla stazione del piazzale a dare fuoco prima alla carrozzina di cui si serviva per deambulare e poi ad alcuni sacchi della spazzatura. I roghi sarebbero stati appiccati per protestare contro lo sgombero operato lunedì scorso dalla Polizia Municipale di Arezzo che aveva smantellato l'alloggio di fortuna dell'uomo. Ieri pomeriggio sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando aretino per spegnere le fiamme e mettere l'area in sicurezza, mentre gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 sono accorsi. Ennesimo furto in Valdarno. Nella notte è stato colpito il centro nuoto di Montevarchi. Il bottino è magro mentre sono ingenti i danni. Vediamo il servizio. In tre, a volto coperto da armati di sprang, sono entrati in azione nella notte al centro nuoto Valdarno di Montevarchi. Un colpo è immortalato dalle telecamere di video sorveglianza. Erano da poco passate le 4 di notte quando la banda di lati è entrata all'interno della struttura di via Matteotti attraverso un buco ricavato nella recinzione esterna. Prima tappa il chiosco che si trova nel resede esterno dal quale hanno portato via il fondo cassa, circa 50 euro. Non soddisfatti, i ladri sono entrati anche nella struttura principale del centro. Hanno rovistato ovunque e portato via uno smartphone. Magro il bottino, ingenti invece danni che la banda si è lasciata alle spalle. Sono infatti stimati tra i 3 e 4 mila euro. La struttura questa mattina è stata comunque regolarmente aperta al pubblico. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, ai quali è già stata sport alla denuncia. Si tratta dell'ennesimo assalto e danni di attività della vallata che nelle ultime settimane è finita più volte al centro delle cronache locali per episodi di furti e rapine. Lasciamo la cronaca e parliamo della festa dedicata al patrono Aretino Sandonato che si celebra appunto oggi. Ieri sera è andato in scena il consueto e partecipatissimo appuntamento con lo spettacolo pirotecnico e anche l'offerta dell'acero alla vigilia. Vediamo. Naso all'insù per lo spettacolo pirotecnico che come ogni anno ha illuminato il cielo della città. La notte del 6 agosto rappresenta infatti un momento particolarmente atteso dagli aretini che rendono omaggio al santo patrono. San Donato fu il secondo vescovo di Arezzo e secondo tradizione mori martire decapitato il 7 agosto 362. Dunque un grande spettacolo nella notte della vigilia e della festività. Prima dei fuochi d'artificio come ogni anno la cerimonia di offerta del cielo al patrono alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della giostra, dell'associazione signerezzi, dei musici, la magistratura e sindaci dei comuni della diocesi e i gruppi storici della provincia. Offerto a San Donato il cerovotivo decorato come di consueto dall'artista senese Rita Rossellaciani, decoratrice anche dei cedi che i quartieri offrono al beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l'anno giostresco. È bello vedere la cattedrale gremita di famiglie, di bambini, di figuranti e poi soprattutto le comunità rappresentate dai sindaci, dalle varie istituzioni ed è bello vedere che c'è una dimensione di comunità che si raccoglie, che si riconosce e che quindi vuole sentirsi comunità coesa in cammino. Ecco mi sembra un segno molto bello e beneaugurante per la nostra provincia, per tutti i comuni, per la nostra diocesi. Per me è una prima volta perché l'anno scorso, la sera di San Donato, della festa precedente, ero in viaggio di ritorno dalla GMG con i giovani da Lisbona e quindi ho potuto apprezzare anche questa prima volta dell'offerta dei ceri e mi è sembrata molto partecipata, molto festosa e un segno davvero di vitalità della nostra comunità. Un ciclo di iniziative dedicate ai residenti delle case popolari della provincia di Arezzo a promuoverle è Arezzo Casa SPA che in occasione dei 20 anni di attività organizzato da sabato 21 a domenica 29 settembre il Festival AC20, il futuro dell'abitare, che sarà scandito ogni giorno da un ricco calendario di eventi tra la città e le quattro vannate finalizzate a promuovere momenti di incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni. Tra gli obiettivi della rassegna rientra anche la valorizzazione degli spazi di edilizia popolare e la promozione della socializzazione attraverso il coinvolgimento attivo degli stessi residenti in laboratori creativi e percorsi musicali con officine della cultura e in visite guidate al Museo Archeologico Nazionale Gaio, Clinio, Mecenate. E adesso spostiamoci in Casentino dove sono attivi i progetti AteDoc per il sostegno alle persone anziane o ai disabili. Vediamo. Servizi di continuità assistenziali e ospedale territorio, progetti socioeducativi per minori e percorsi di sostegno familiare per persone con decadimento cognitivo. Sono queste le azioni che la zona distretto Casentino ha previsto per i prossimi tre anni grazie al progetto AteDoc finanziato per 263.000 euro dalla regione toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus rivolto alle persone non autosufficienti e con disabilità residenti nella vallata. Il progetto AteDoc in Casentino prevede il sviluppo di tre azioni. L'azione 1 che è rivolta per le dimissioni protette dall'ospedale al territorio delle persone ultra 65 anni che presentano condizioni di non autosufficienza o che si siano a rischio della non autosufficienza con limitazioni nella propria autonomia e di riammissione al proprio domicilio in maniera supportata e protetta. L'equip che valuta queste dimissioni e l'attivazione di questi interventi è la COT dell'ospedale. L'altra azione che il Casentino intende perseguire è l'azione 2 che prevede l'assistenza domiciliare fornita da operatori economici per le persone che presentano deficit di autonomia e sono certificate con demenza e Alzheimer. Oltre agli interventi di assistenza domiciliare è prevista anche la possibilità di poter frequentare in forma di urna un servizio per alleviare il carico assistenziale delle famiglie e poter mantenere le proprie abilità e funzionalità individuali. L'ultima azione che il Casentino ha pensato di sviluppare è rivolta ai minori con disabilità attraverso degli interventi socio assistenziali e socio educativi. C'è anche Sansepolcro fra i comuni della Toscana diffusa per i quali la giunta regionale ha appena approvato gli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale nell'ambito delle strategie territoriali delle aree interne. La regione toscana proprio in questi giorni ha comunicato a Palazzo delle Laudi l'assegnazione di un finanziamento pari a 600 mila euro complessivi avendo partecipato al bando per la rigenerazione urbana a favore dei comuni con una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione Trebbio che prevedeva un costo complessivo di 750 mila euro con un contributo da parte del comune di 150 mila euro. Nello specifico i fondi assegnati in questi giorni dalla regione toscana interessano la riqualificazione delle aree verdi di Viale Diaz, il miglioramento sismico di Palazzo Pretorio e la produzione di fonti rinnovabili al bocciodromo. Adesso torniamo ad Arezzo dove è attivo dallo scorso primo agosto l'infermiere di Misericordia. Vediamo. L'idea nasce perché noi siamo la Misericordia e tutti i giorni trasportiamo le persone con con i nostri servizi sociali e cogliamo quella che è la difficoltà che ha il cittadino su alcune situazioni. Si recano direttamente e gratuitamente a casa degli aretini per trovare soluzioni a piccoli problemi di rapida soluzione ma che possono rendere la vita difficile come medicazioni, iniezioni, misurazione della pressione ma anche una sola parola di sostegno. Rivolto all'aiuto alle persone che si trovano ad avere delle piccole difficoltà sia di carattere sanitario ma anche di carattere sociale o di solitudine o di valutazione ambientale per cui queste persone ci hanno chiamato, ci hanno già chiamato per diversi interventi e su questi qui l'infermiere può dare una risposta che è quella competente per la risoluzione del problema. Sono gli infermieri di Misericordia, un nuovo servizio partito dallo scorso 1 agosto. 8 gli infermieri specializzati che a turno ogni mattina, festivi e prefestivi compresi, scendono in campo. Andiamo a somministrare per lo più a livello di terapie, ad esempio le calciparine, l'entramuscolo, andiamo a suddividere anche in base ai orari le pillole alle persone magari anziane che sono da sole e non hanno un caregiver. L'importante è che il paziente deve procurarsi tutto il materiale, nel senso che noi abbiamo il nostro di supporto se dovesse succedere qualcosa o mancare qualcos'altro, però dovessimo fare un'iniezione intramuscolo, il paziente deve avere farmaco, siringa e ago e stessa cosa ovviamente vale anche per il clisterio e così via. Oppure c'è capitato anche di andare a fare sostegno, cioè supporto psicologico a persone che magari si sentivano da sole o avevano una sorta di forma di depressione e quindi avevano semplicemente bisogno di parlare con una persona competente. Tutto parte con una chiamata ad un numero dedicato 348 51 60 880, un servizio di assistenza domiciliare che integra la rete locale dei servizi sociosanitari. Già abbiamo avuto delle situazioni di carattere sociale che abbiamo rimandato quindi alla competenza della parte sociale e parimenti se noi troviamo delle situazioni di carattere infermieristico che siano complesse queste le rimandiamo ovviamente a quella che è la struttura deputata alla soluzione del problema. Adesso andiamo in Valdichiana, torna un appuntamento immancabile nella notte di San Lorenzo. a Lucignano è di scena la cena in piazza sotto le stelle, si tratta della settima edizione, sarà ancora a piazza del Tribunale ad ospitare l'iniziativa organizzata da Vittorio Camorri di Terretrusca Evans con il supporto e la collaborazione dell'amministrazione comunale lucignanese. Chi ama cucina è il tema di questa edizione, sabato l'alta cucina italiana e gli appassionati di cucina e di alta gastronomia si ritroveranno in piazza per deliziare i convenuti con una cena sotto le stelle offrendo prelibatezze che esalteranno i sensi, piatti raffinati preparati con cura e passione dai rinomati chef partecipanti all'evento. E ancora un altro appuntamento dedicato proprio alla notte di San Lorenzo, vivere una notte di San Lorenzo speciale nel segno della musica in un ambiente naturale mozzafiato. E' questa la proposta della Fraternita di Romena per sabato 10 agosto alle ore 21 nel grande prato della Pieve Romanica con una meravigliosa vista sul Casentino e in programma il concerto alle stelle di Simone Cristicchi e Amara con orchestra. I due artisti sono molto legati a Romena e hanno deciso di regalarle un evento in data unica in esclusiva. Li accompagnerà l'orchestra instabile di Arezzo diretta dal maestro Walter Sivilotti. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.